Ciampino abbiamo un problema ma sempre chiusi in questa casa siamo ma non c'è un localino qui da queste parti Avete un inclusive cercate Trovate il locale La mia camicia quella buona l'hai lavata? Tutto a posto lo stai al sole Al sole come al sole oh All inclusive a 9 euro al mese 250 minuti veri 250 sms 1 giga Ti rendi conto della gravità della cosa? Ma la gravità qui non c'è? Nei negozi winter